Le nostre attività sono prevalentemente attenti al campo della tutela ambientale, della prevenzione. Nel concetto di prevenzione noi intendiamo contenere anche questi momenti di comunicazione attraverso i quali cerchiamo di far capire quali sono gli strumenti che la comunità europea, la regione, lo Stato italiano forniscono agli utenti, cittadini, pubblici e privati per poter migliorare le loro performance ambientali nel concetto di uno sviluppo sostenibile. Presidente, la vostra presenza qui è anche soprattutto didattica, educativa per le scuole, avete distribuito anche un DVD? Sì, prevalentemente didattica ed educativa, ho distribuito un DVD che credo sia la prima agenzia che in Italia ha elaborato un documento del genere, che è uno strumento che consente, facilita la pubblica amministrazione che vuole intraprendere questo percorso di registrazione EMAS o Ecolabel e quindi globalmente il beneficio per la regione se più amministrazioni seguiranno questa strada è quello di una miglior performance ambientale delle stesse amministrazioni pubbliche.